Sanit non pensava di arrivare tanto in alto, così ha voluto intitolare il suo nuovo album Sohai. Dopo il grande successo ottenuto davanti a oltre 50.000 persone allo Stadio San Siro di Milano lo scorso 21 giugno per Amiche per l'Abruzzo, la cantante ha presentato il suo lavoro in una bella serata tra VIP e fans al The Place a Roma. Nei tavoli affollati del locale e sul palco per esibirsi con lei c'erano Pamela Prati, Stefania Orlando, Metis Di Meo, Nathalie Caldonazzo, Bianca Guacero e moltissimi altri, rapiti dal ritmo delle note e una voce, quella di Sanit, che ti entra nell'anima. Grazie.